segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ho sentito poco fa al telegiornale luciana che il ministero ucraino ha dato i dati dei soldati russi vittime russe sarebbero quasi 30 mila fra 27 e 30 mila sono moltissimi ma lo sanno i russi questo è il problema sì sono moltissimi lo sanno i russi vi posso dire una cosa che mi è successa l'altro giorno e che poi mi hanno chiesto cioè ho avuto una situazione diciamo di impasse con dei militari in pratica ero appunto in un villaggio liberato a malaya rogan dove appunto ancora c'erano poi sono stati ripuliti sono state ripulite le strade ma ancora c'erano corpi di militari russi morti dopo 40 giorni e io ho chiesto come fosse possibile questa situazione perché dopo 40 giorni quei corpi fossero ancora lì e mi è stato detto ma secondo te i 25 mila militari quel giorno mi è stato detto 25 mila non c'era stato questo aggiornamento ma secondo te i 25 mila militari che la russia non ha voluto secondo te noi che cosa abbiamo fatto con quei corpi molti dei quali sono stati molti dei corpi di questi militari sono stati semplicemente bruciati e poi appunto c'è stata una situazione un po strana perché mi hanno detto guarda questa cosa non mi riprendere non dirla grazie luciana con l'uccello per tornare al tema delle madri di cui parlavamo all'inizio no quando le madri